La gestione delle imprese si fa sempre più digitale e smart, per questo le banche stanno implementando le attività rivolte alla clientela impresa, con soluzioni di remote banking tagliate su misura. Le piattaforme di remote corporate banking sono importantissime nella relazione che le banche hanno con le aziende, le aziende fanno transitare su queste piattaforme i pagamenti e le operazioni più importanti che hanno e i bisogni che hanno su queste piattaforme sono sostanzialmente che funzionino bene, che siano affidabili, ma anche che siano ricche di funzionalità e che diano immediatamente una visione all'azienda dello stato della propria relazione con la banca, che siano finanziamenti, pagamenti o esiti dei pagamenti. Nexi, in particolare, ha sviluppato una serie di prodotti innovativi per le piccole e medie imprese. Nexi ha deciso di disegnare completamente da zero un sistema fatto apposta per loro, questo perché hanno una loro specificità, hanno dei numeri che ricordano molto il retail, hanno però delle esigenze che evidentemente sono da imprese. Ecco qui la necessità di creare un sistema fatto apposta per loro. Nell'ambito dei servizi di corporate banking, Nexi è una realtà consolidata, con una quota di mercato importante, circa il 35%, e 500.000 aziende collegate. Nexi ha cominciato all'inizio di quest'anno una fase di sviluppo e ridisegno completo dei propri servizi, con un investimento importante che si dispiegherà nell'arco di tre anni di circa 20 milioni di euro. La rivoluzione di tutti i prodotti coinvolgerà soprattutto le componenti di corporate banking per il front-end imprese, ma anche e soprattutto il rifacimento completo dell'infrastruttura di erogazione per renderla più stabile e resiliente e soddisfare i crescenti bisogni e necessità anche a fronte dell'innovazione che si sta presentando nel mondo del corporate banking.